La minore, allora noi la facciamo in la minore se la volete fare a casa, è importante. Va bene in la minore, come vuoi, come vuoi. No, per letterare, così, tipo, facciamo un giro che Ale canta, come se fosse un piano bar con un pianista, un pianista. Ok, io ti seguo. Mi seguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando ho già credevo di esserci riuscito, sono caduto. Una frase sciocca, un volgale, doppio senso, mi ha animato, non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo desso, e sono restato. Chissà, chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarai di noi, ma scopriremo solo vivendo, comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto a te sia sincera. Chissà, chissà che sei. Chissà che sarai, chissà che sarai di noi, lo scopriremo solo, vivendo comunque adesso un po' paura. Ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto che sia sincero. Ecco, sono l'ultimo poeta, bravi, bravi, viva, viva.